Il peso, come ho detto prima, delle imprese commerciali è pari al 24%. Conf Comercio inizia il 2019 con un attacco netto alla grande distribuzione. Secondo il direttore generale Amerigo Varotti, i danni procurati dai giganti della spesa alla rete di negozi di vicinato sono ormai arrivati a livelli insostenibili e non si può rimandare il contrattacco. Noi lanciamo una forte richiesta alla Regione Marche per sostenere il commercio di vicinato le botteghe. Nel 2018 nella Regione Marche hanno chiuso al 31 ottobre, quindi mancano ancora i dati di fine anno che saranno pessimi, hanno chiuso 800 imprese commerciali, nella provincia di Pesaro 216. A fine anno normalmente chiudono le imprese perché devono chiudere l'anno e quindi la cancellazione al registro delle imprese avviene entro il 30 gennaio. Presumiamo che sarà un dato molto ma molto pesante. Tra i tanti motivi della chiusura delle botteghe c'è la presenza massiccia della grande distribuzione di vendita e ancora ci sono dei sindaci che fanno le varianti, fanno gli out, fanno i centri commerciali, non hanno capito che stanno distruggendo un patrimonio di imprese e stanno distruggendo il territorio. Poi c'è l'e-commerce, nel 2018 in Italia c'è stato un aumento delle vendite del 16%, cioè gli italiani hanno comprato su internet per 26,4 miliardi di euro, con un aumento del 16% rispetto al 2017. Per questo ConfCommercio farà quest'anno il proprio portale per l'e-commerce, il proprio negozio virtuale, come dicono quelli bravi, il marketplace, dove le nostre imprese, imprese commerciali, gli artigiani, le aziende agricole potranno vendere. Quindi oltre alla bottega fisica avranno anche la bottega virtuale che è il progetto di ConfCommercio 2019. Nel corso del 2018 l'associazione ha cambiato volto, rinnovando tutte le cariche sindacali e nominando un ufficio di direzione che avrà il delicato compito di affiancare e con il tempo sostituire proprio il direttore generale Varotti, che nel 2020 sarà pronto per la pensione. Si tratta di Stefano Lucchetti che curerà la parte amministrativa, Agnese Truffelli che curerà il personale e la parte organizzativa generale, Egidio Cecchini che si occuperà delle relazioni istituzionali e Marco Arzeni che si dedicherà alle relazioni sindacali. In termini di promozione turistica il 2019 segna l'ampliamento degli itinerari della bellezza con l'ingresso nel circuito di Pesaro, Gradara e Colli al Metauro che saranno inserite nella guida di 100 pagine dedicata e che verrà distribuita alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano il prossimo 10 febbraio. Fano rimane fuori da questo network ma dovrebbe entrare in un progetto specifico basato sulla romanità che avrà proprio la città della fortuna come punto di riferimento includendo il parco archeologico di Fossombrone, la Domus dell'Abbondanza e tutte le opere che i romani hanno lasciato sul territorio. Sempre in tema di promozione turistica il business model di Riviera Incoming verrà replicato nella parte meridionale della regione dove nascerà Piceno Incoming che coinvolgerà in blocco le strutture di Grotta Mare e una trentina di alberghi di San Benedetto del Tronto. Rispetto allo sviluppo dei mercati esteri, Cofcommercio renderà anche completamente operativo un ufficio dedicato che collaborerà con l'Aice di Milano, lo studio Bacciardi & Partners e l'Università di Urbino.